Come ti senti oggi? Sono molto emozionale, sono molto felice e molto orgoglioso di essere parte di questo grande club, uno dei più grandi del mondo. Hai già parlato con qualcuno che ti ha presentato al mondo AC Milan? Non ancora, ma adesso sono venuto, quindi ho il tempo per adattare e per esplorare tutto su Milano, ma sappiamo tutto. Molto di queste trofee parla su Milano. È incredibile, vedo che hai stoppito vicino a Kakà, Boban e Shevchenko. Come ti rappresentano? Boban è da Croazia, quindi tutti conosciamo quale carriera ha in Milano. Quindi non bisogna parlare molto di loro, anche di Shevchenko, perché mio frate è un grande fan di lui e un grande fan di AC Milan. Quindi vedo questa situazione per me. Il sarà felice e orgoglioso, e vedo che questo significa molto a lui. E Kakà, cosa rappresenta per te? Kakà è un grande giocatore, numero 10, con un grande giocatore. Qual è la vostra posizione sul campo? Cosa ti piace giocare? Numero 8. Cosa ti piace, ma anche giocare tutte le posizioni sul campo, quindi non è un problema per me. Per me giocare a qualcosa che il coach sia importante per il team. Quali sono le vostre aspettative con l'AC Milan? Cosa ti piace? Cosa ti piace, che in ultimo anno non sto l'acca. Quindi, mi piace giocare molti giocatori. Per me è più importante, perché ho il 21 giocatore. E' una grande esperienza e una grande opportunità per me. Perché dopo la spagnola e la francesca, ora mi spiego la terza delle top 5 leaglie, quindi la maggior parte di tutto bisogno di giocare e continuare. Cosa sai del futbol italiano? È forte, è molto difensivo, è tecnico? Sì, conosco molti ragazzi, che giocare in l'Italia. Quali? Per esempio? Sono piccoli giocatori, con un'ottima squadra in l'Ur21, con i ragazzi che avevano spiegato prima. È molto tattico in futbol, magari un po' più difensivo, ma è anche buono per la mia carriera di apprendere e migliorare in carriera. Hai già chiesto il numero di tanti? Non ancora. Non ancora. Hai alcuni numeri favoriti? Magicali numeri? Vedremo che sia gratis e poi potrò decidere. Puoi dire ciao a tutti i fanci di AC Milan che ti supportano durante questa sezione? Sì, ovviamente. Ho ricevuto molti messaggi sui social media, da i fanci, quindi voglio ringraziare tutti i fanci. e spero di dare tutto ciò che posso per AC Milan, per questo grande club. Ho spero di divertirsi questa sezione. E posso dire Forza Milan? Forza Milan. Grazie. 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 Grazie.